Guarda sto cervo a Valdobiadene, è andato in comune, è andato dentro il comune. E poco dopo è stata trovata proprio lì, disorientata e spaventata, nell'ufficio della polizia locale di Valdobiadene. È successo tutto questa mattina, verso le 11.30, quando un esemplare di giovane cerva ha attraversato di corsa il centro della città, saltando tra gli addobbi natalizi di Piazza Marconi, per poi schiantarsi contro la porta del municipio. È andata a scontrarsi contro la porta a vetri del municipio, mandandola in frantumi e salita al primo piano, è entrata all'ufficio della polizia locale, è rimasta lì, l'abbiamo sorvegliata in attesa che arrivassero i veterinari dell'US2 di Treviso e i carabinieri forestali della caserma qui di Valdobiadene. Che insieme al CRAS, il centro di recupero animali selvatici, sono intervenuti sedando e visitando l'animale che fortunatamente non ha riportato nessuna ferita grave, solo un piccolo graffio sul muso causato dai vetri del forte impatto all'ingresso. Cerva che poi, sotto sedazione, è stata scortata dagli addetti fuori dal comune e trasportata verso le sue montagne per tornare libera nella natura. Abbiamo dovuto allontanare le persone presenti in municipio e anche i curiosi che venivano per vedere l'animale perché su indicazioni appunto del servizio veterinario era importante che la cerva non venisse spaventata dalle persone e dai rumori. Persone e rumori, elementi che solitamente spaventano gli animali selvatici dei vicini boschi, soprattutto in orari così frequentati. È anomalo l'orario perché normalmente si possono incontrare animali selvatici anche vicini ai centri abitati o all'alba o al tramonto. Probabilmente questa cerva era da qualche ora che stava girando attorno al centro di Valdobbiadene e ha trovato lo spazio aperto di Piazza Marconi e l'ha attraversato di corsa.